Ancora indagini per lo spaccio sotto casa. I carabinieri della compagnia di Sulmona, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno sequestrato il telefono cellulare di DP 33enne di Sulmona, arrestato lo scorso sabato con cocaina e contanti in casa. Si tratta di un atto dovuto da parte di procure militari per cercare elementi utili ai fini dell'inchiesta tra i tabulati telefonici e la messaggistica conservata sulle app del cellulare. Non solo nomi scritti di pugno nel tacquino trovato a casa le 33enne, ma probabilmente anche messaggi da analizzare a fondo. Per questo gli inquirenti non vogliono lasciare nulla al caso. In queste ore i carabinieri stanno esaminando i 50 nomi annotati da DP sul suo bloc notice. La lente della giustizia finirà su ognuno di loro, potenziali clienti e assuntori di droga, ma anche possibili pusher da intercettare per spezzare la catena dello spaccio. Per questo l'indagine prosegue, potrebbe avere un seguito nei prossimi giorni. Intanto la posizione del 33enne si è delineata ieri nell'audienza di Convalida. Gli aggravanti del market della droga sono cadute grazie all'avvocato difensore Stefano Michelangelo. Restano gli indizi di colpevolezza, tanto è che il GIP ha applicato la misura degli arresti domiciliari, ritenuta più congrua al castello delle accuse. I carabinieri dove aveva scoperto la cessione della droga un 64enne hanno trovato a casa dell'indagato 38 grammi di cocaina, un salvadanaio pieno di 7.000 euro, un bilancino di precisione buste di plastica a punti vari. Per l'IP la droga in casa serviva per uso personale per il consumo di gruppo. Di tutt'altro avviso procura e carabinieri che continuano a indagare.